Incidente nel pomeriggio di venerdì 2 settembre verso le 18.30 a Castellamonte, lungo la strada che porta a Cintano, altezza figlia. Ad essere uscito di strada, le cause dell'incidente sono al valio delle forze dell'ordine, un uomo classe 74 residente a Torino, a bordo di un Nissan Navara. L'uomo, cosciente e non in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale di Vrea. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Elie, i vigili del fuoco di Vrea e Castellamonte, il drago dei vigili del fuoco e la croce rossa di Castellamonte. Grazie. Grazie.